Mentre a Kabul, afghani e pakistani cercano di discutere di pace a Elmand nel sud del paese, i talebani continuano a conquistare terreno nella provincia fino ad un anno fa sotto il controllo delle truppe anglo-americane. La battaglia fra gli alisti e studenti di Allah, questo vuol dire la parola talebano, è durissima da settimane, in un territorio dove viene coltivata la maggior parte di oppio, poi usata per la produzione di eroina. Controllare questa regione vuol dire controllare la produzione e il fiume di denaro annesso. Un abitante fuggito dal conflitto spiega come non sia più possibile restare lì, in quel posto. Pakistan e Afghanistan hanno deciso di collaborare soprattutto dopo la strage talebana in una scuola di Peshawar un anno fa. 136 bimbi trucidati dagli integralisti. È stato allora che il Pakistan ha deciso che la misura era colma, malgrado i mezzi dispiegati però. Gli eserciti regolari non sono stati in grado di avere la meglio sui talebani, dato che questi sono anche disposti a utilizzare attentati suicidi, qualcosa che i regolari non possono ovviamente fare. A peggiorare la situazione è la lotta interna ai talebani, con una leadership adesso frammentata e frazioni che cercano di superarsi fra loro in estremismo.